Il figlio del mercante di Milano C'era una volta in Milano un mercante che aveva moglie e due figlioli. Dei due preferiva il maggiore, perché grande ormai da poterlo aiutare nei suoi traffici. Al piccolo non che volesse male, ma lo trattava ancora da bambino e poco gli badava. Era un mercante ricco che ormai andava dietro solo ai negozi di immenso guadagno e così ora andava in Francia per certe fabbriche, un'impresa che secondo i suoi calcoli doveva portargli un frutto smisurato. Il figlio maggiore doveva andare con lui, ma anche il piccolo che si chiamava Menichino non ristava dal ronzalli intorno. «Voglio venire anch'io con voi, babbo. Sarò buono, vedrete, v'aiuterò io pure. Non voglio rimanere solo qui a Milano». E il padre, che non ne voleva sapere per farlo star zitto, gli minacciò un paio di ceffoni. Venne l'ora, il mercante e il figlio fecero portare i bauli e salirono in carrozza. Era notte e tra il buio e il trambusto della partezza i postiglioni non si accorsero che sulla pedana dietro alla carrozza si era coccolato Menichino. La carrozza fermò alla prima posta a cambiare i cavalli e il ragazzetto, per non essere visto, salto a terra e aspettò che il legno si muovesse di nuovo per tornare sulla pedana. Alla seconda posta era già giorno e Menichino s'andò a nascondere a una svolta per aspettare che passasse la carrozza e saltar su. Ma la carrozza partì di volata e lui non fece in tempo a saltare. Restò solo in mezzo alla via maestra. A vedersi così solo, senza un soldo e affamato, per luoghi sconosciuti, il ragazzetto si sentì voglia di piangere. Ma poi si fece coraggio e si diede a esplorare la campagna. Seduta sul bordo della via trovò una vecchia. Dove vai così solo? Ti sei perso? Disse la vecchia. Smarrito davvero, nonna? Disse Menichino. Ero in carrozza con mio padre e mio fratello e a una stazione di posta la carrozza è ripartita senza di me. Così sono qua e non so neanche la strada per tornare a casa da mia mamma. Ma del resto a casa non c'ho niente da fare. Preferisco andare per il mondo in cerca di fortuna visto che mio babbo mi ha lasciato in mezzo a una strada. Riflette un po'. Poi aggiunse. Beh, per dire la verità il mio babbo non lo sapeva da vermi con sé. Ero nascosto sulla pedana dietro perché volevo anch'io andare in Francia. La vecchia disse Bravo! Sei stato sincero e hai fatto bene perché io sono una fata e sapevo tutto lo stesso. Se cerchi la tua fortuna ti insegnerò io dove la potrai trovare se sarai accorto e rispettoso. Certo sono giovane disse Menichino non dico di no ma i miei 14 anni e un po' di cervello credo da verceli. Dunque nonna se avete questa buona intenzione d'aiutarmi state sicura che farò tutto ciò che mi direte. Bravo! disse la fata sappi che il re del Portogallo ha una figlia adottora che è capace di indovinare qualsiasi indovinello e il re la promessa in sposa a chi saprà proporle un indovinello che lei non riuscirà a spiegare. Tu sei un ragazzo in gamba trova un indovinello e la tua fortuna è fatta disse Menichino Già ma come volete che io sia capace a mettere insieme un indovinello da far passare per scema una signorina col cervello così fino? Ci vuole gente studiata non ignoranti come me. Oh disse la vecchia io ti metto sulla via il resto ingegnati a farlo tu ti regalo questo cane ricordati che il suo nome è bello e sarà lui che ti farà comporre l'indovinello prendilo con te e va sicuro. Bene nonna se lo dite voi ci credo intanto vi ringrazio siete stata gentile ed è questo che conta e se ne andò salutandola con cortesia anche se alle sue parole non ci credeva molto ciò nonostante prese il cane per il guinzaglio e seguitò il suo cammino verso sera arrivò a una casa di contadini e chiese per carità qualcosa da mangiare e un asilo per la notte gli aperse una donna e gli disse come mai giri solo la notte con un cane per tutta compagnia non hai il babbo e la mamma menichino disse volevo andare in Francia e mi ero nascosto dietro la carrozza e mio babbo è partito adesso vado a dire un indovinello alla figlia del re di Portogallo e questo cane me l'ha regalato una fata e mi segnerà l'indovinello e così sposerò la figlia del re la donna che era un'anima nera pensò se questo cane insegna gli indovinelli potrei rubarglielo e mandare mio figlio dalla principessa e decise d'uccidere il ragazzo gli impastò una focaccia avvelenata e disse tieni questa noi la chiamiamo pizza io a casa non posso alloggiarti perché mio marito non vuole che apra mai a forestieri ma tu puoi andare a dormire in una nostra capanna che troverai appena entrato nel bosco portati nella capanna questa pizza e mangiala domattina verrò a svegliarti e ti porterò il latte menichino ringraziò e andò verso la capanna ma il cane aveva più fame di lui e faceva salti intorno alla pizza che lui teneva in mano allora sbeccò la pizza e ne buttò un cantuccio al cane bello lo prese al volo e appena l'ebbe ingoiato cominciò a tremare si buttò a pancia all'aria allungò le zampe e morì menichino lo guardò a bocca aperta gettando via il resto della pizza poi si riscosse ed esclamò ma questo può essere il principio dell'indovinello pizza ammazza bello e bello salva me non mi resta che trovare il seguito proprio in quel momento tre corvi che volavano in cielo vedendo il cane morto calarono a posarglisi sulla pancia e cominciarono a beccare dopo un minuto erano tutti e tre stecchiti ecco come continua si disse menichino un morto ammazza tre prese i tre corvi e se li legò a tracolla col guinzaglio del cane a un tratto dal bosco escono dei ladri armati e coi musi lunghi dalla fame cosa hai con te chiesero a menichino menichino che aveva solo quei tre corvi non si spaventò tre uccelli da fare allo spiedo disse dagli a noi dissero i ladri e glieli portarono via menichino si nascose su un albero per vedere cosa succedeva i ladri fecero i corvi allo spiedo e morirono tutti e sei così menichino andò avanti un altro pezzo pizza ammazza bello e bello salva me un morto ammazza tre e tre ne ammazzano sei ma vedere i ladri mangiare gli aveva ricordato che aveva fame e lì c'era lo spiedo già preparato prese il fucile a uno dei ladri morti e mirò a un uccello su un albero era un uccello che stava covando e la cartuccia invece di colpire l'uccello colpì il nido che cascò a terra dalle uova rotte uscirono degli uccelletti ancora in plumi lui li mise sul focolare che era servito per i corvi e per accendere il fuoco strappò le pagine d'un libro che era nel bottino d'uno dei ladri morti poi tornò sull'albero e si addormentò tra i rami adesso aveva in testa tutto il suo indovinello quando arrivò in portogallo nella città reale sporco e stracciato com'era per la lunga strada subito volle presentarsi alla principessa la principessa si mise a ridere ma che faccia tosta questo straccionello pretende di vincere me e di diventare mio marito aspetti a giudicarmi di aver sentito l'indovinello principessa disse menichino che il decreto del re suo padre è dedicato a tutti e non fa distinzione fra le persone si parli proprio bene disse la principessa però se vuoi ritirarti sei ancora in tempo e ti risparmieresti un carico di bastonate menichino esitò un po' poi ripensò a quel che gli aveva detto la fata e si fece coraggio allora il mio indovinello è questo disse pizza ammazza bello e bello salva me un morto ammazza tre e tre ne ammazzano sei io sparai a chi vidi e presi chi non vidi mangiai carne non nata cuociuta con parole ho dormito né in cielo né in terra indovinate voi mia reginella appena menichino ebbe finito la principessa esclamò sì 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 è facilissimo dunque c'è un tuo fratello o un amico che si chiama pizza e per salvarti dalle mani di bello tuo nemico l'ha ucciso e bello con la sua morte ti salvò perché non poteva farti più del male e va bene ma prima di morire quel bello ne ha ammazzati tre e poi questi tre aspetta poggiò i gomiti sulle ginocchia poggiò il mento sulle mani e cominciò a grattarsi la collottola a prendere delle pose poco adatte per una principessa nello sforzo di pensare carne non nata già cuociuta con parole vuol dire riuscissi a trovare il bandolo finalmente si arrese mi do per vinta è un indovinello impossibile spiegamelo un po' tu allora menichino raccontò per filo e per segno la sua storia e chiese che fosse mantenuta la promessa reale la principessa disse beh hai ragione rifiutarmi non posso però di diventare sposa tua non ne ho proprio voglia se però tu ti mettessi d'accordo con mio padre per un accomodamento io sarei molto più contenta e menichino vediamo questo accomodamento se ci trovo la mia convenienza io ci sto guardate però che io giro il mondo per mutare la mia fortuna e se non sposo la principessa bisogna che abbia qualcosa che valga il cambio anzi ci guadagni disse la principessa diventerai ricco sfondato e potrai realizzare ogni tuo desiderio vuoi mettere con la vere per moglie una principessa che non ti vuole sempre scontenta e irritata contro di te in cambio sai cosa ti do il segreto del mago della montagna del fiore e quando hai questo segreto in mano sei a posto e dov'è questo segreto devi andarlo a prendere tu di persona dal mago sulla montagna del fiore ci andrai a nome mio e te lo darà Menichino stette un po' a pensare se gli conveniva lasciare il certo per l'incerto ma essere il marito della principessa gli faceva più paura che piacere e si fece spiegare la strada per la montagna del fiore la montagna del fiore era una montagnaccia impenetrabile e Menichino faticò molto ad arrivare fino in cima lassù su quelle rocce e non si capiva come avessero potuto costruirlo c'era un immesso castello circondato da giardini Menichino bussa e gli aprono certi esseri smisurati né uomini né donne brutti da far paura alla paura in persona Menichino se li aspettava ancora peggio e li guardò in faccia tranquillo chiedendo che lo introducessero dal mago venne il maggiordomo del mago che era un gigante mostruoso e disse ragazzo tu coraggio ne hai da vendere però col mio padrone è meglio che non cerchi di far conoscenza perché hai il vizio di mangiarsi cristiani belli e crudi e Menichino sia come sia ho bisogno di parlare col mago faccia a faccia perciò fate il piacere di annunziarmi il mago se ne stava sempre in panciolle su ricchi tappeti e cuscini e a sentirsi annunciare la visita di un ragazzo pensò questo è un buon boccone di cristiano fresco fresco per colazione entrò Menichino e il mago chi sei cosa vuoi da me non si preoccupi signor mago disse Menichino non vengo da lei per nulla di male sono un povero ragazzo in cerca della sua fortuna e mi hanno indirizzato da lei che è così caritatevole coi poveri sfortunati il mago a udir questa battuta scoppiò in una risata che fece tremar tutto il palazzo ma si può sapere chi ti ha mandato e Menichino gli raccontò tutta la storia il mago si alzò su un gomito per vederlo meglio però disse sei un ragazzo di fegato e poi sei sincero ti meriti questo premio il mio segreto è questa bacchetta fatata io te la do ma guai se te la lasci rubare o se la perdi è una bacchetta che ogni volta che tu la batti in terra e chiedi quel che vuoi l'avrai subito tienila e vattene pure sano e salvo scendendo dalla montagna del fiume Menichino riflettè per bene e decise che meglio di tutto era tornare a casa in veste da signore e vedere se i suoi erano vivi e si ricordavano ancora di lui questa sarà la prima prova della bacchetta fatata si disse la picchiò in terra e sentì una voce che diceva comandi rispose Menichino comando una carrozza con tiro a quattro la che sta fieri e vestiario da signore ed ecco che davanti ai suoi occhi c'era una carrozza con bellissimi cavalli e i servitori gli porgevano i vestiti all'ultima moda perché si cambiasse i cavalli erano fatati e fecero tutta la strada fino alla città di Milano senza bisogno del cambio arrivato a Milano trovò che i genitori non stavano più nel palazzo di prima l'affare di Francia invece che in un guadagno si era risolto per suo padre in un grosso imbroglio e ci aveva rimesso tutte le ricchezze adesso si erano ridotti a pigione in una catapecchia quasi fuori della città Menichino ci arrivò con cavalli e servitori e fece restare a bocca aperta i genitori non fece parola della verga disse d'aver fatto fortuna negli affari e che d'ora innanzi avrebbe provveduto lui per tutti difatti con la bacchetta fece apparire un gran palazzo e raccontò che era stato costruito da operai molto esperti e veloci che erano ai suoi ordini la famiglia vi alloggiò in mezzo a una grande vizia di mobili vestiti cavalli servi camerieri per non parlare dei quattrini regnava la contentezza ma il fratello di Menichino era arroso dall'invidia lui che era il maggiore il beniamino di suo padre doveva starsene lì sottoposto e mantenuto dal fratello minore e si arrobellava per scoprire dove veniva la ricchezza di Menichino cominciò a spiarlo dal buco della chiave e così lo vide almanaccare con quella bacchetta e decise di rubargliela Menichino teneva la bacchetta nel cassettone di camera sua e un giorno che era fuori suo fratello entrò in camera e la portò via quando fu nelle sue stanze cominciò a batter la bacchetta in terra per provarne le virtù ma era inutile perché nelle sue mani la bacchetta non contava più nulla il fratello si disse mi sarò sbagliato non è questa la bacchetta magica e andò a rimetterla nel cassettone di Menichino e a frugare se ne trovava un'altra ma era appena entrato nella stanza che udì il passo di Menichino per le scale per paura ad essere scoperto spezzò in due la bacchetta e la buttò dalla finestra che dava sul giardino Menichino la bacchetta non la doperava tutti i giorni ma solo quando ne aveva bisogno così non si accorse subito della sparizione ma la prima volta che la cercò fu lì per diventare matto si vide perduto pensò che da tanta ricchezza sarebbe presto finito in rovina prese a passeggiare per il giardino in preda pensieri disperati quando sui rami di un albero vide posata una bacchetta stroncata in due il cuore gli balzò in petto scosse la pianta i pezzi caddero a terra e nel momento in cui caddero una voce disse comandi menichino passò sull'istante dalla disperazione a una gran felicità quella era la sua bacchetta e anche rotta conservava le sue virtù legò insieme i due pezzi e si ripromise d'essere più prudente per l'avvenire in quel tempo successe che il re di spagna mandò un bando in tutti i paesi la sua figlia unica era in età da marito e si invitavano i più bravi cavalieri d'ogni nazione a combattere una giostra per tre giorni di fila il vincitore avrebbe avuto la mano della figlia e l'eredità del regno menichino pensò che questa fosse la volta buona per diventare principe della corona e poi re con un colpo di bacchetta fece comparire un'armatura splendente cavalli e scudieri e partì per la spagna non volendo palesare il suo nome e la sua nascita prese alloggio in una locanda fuori mano e aspettò il giorno della giostra la giostra si teneva in uno spazio battuto e tutti intorno di là dello steccato s'affollavano signori e signore d'ogni sorta e in una tribuna col baldacchino si vedeva il re e la principessa in conversazione coi più gran baroni tutta un tratto la folla si volta e suonano le trombe entrano a lancia puntata i cavalieri cominciano a darsele e tutte quelle che uno pigliava erano le sue così piovevan botte da orvi contro le corazze ma nessuno cascava mai in terra perché erano tutti ugualmente forti e valorosi quando nella pista entra al galoppo un nuovo cavaliere con la visiera calata l'arme mai vista prima e uno per uno sfida quegli altri a combattere con lui uno ci si prova cozza e va giù in terra ci si prova un altro ed è sbudellato un terzo gli si spezza la lancia un altro gli va via l'elmo e così li metteva fuori combattimento tutti si volta per fare il giro del vincitore e invece infila la porta dello steccato e galoppa via tutti rimasero svalorditi a cominciare dal re e non restavano più dall'almanaccare su chi poteva essere ma non cavavano un ragno dal buco vedremo se si ripresenterà domani dicevano e difatti il cavaliere ignoto si ripresentò disarcionò tutti come il giorno prima e scappò via senza farsi conoscere il re un po' incuriosito e un po' offeso diede ordine che il terzo giorno lo arrestassero e fece raddoppiare le guardie allo steccato il cavaliere venne e ottenne la vittoria finale andò a inchinarsi alla tribuna reale e quando la principessa tutta ammirata gli buttò il suo fazzoletto ricamato lo prese al volo e prese il galoppo per uscire le guardie gli si fecero sotto ma lui con pochi colpi di spada si aperse la via e scappò malgrado che un colpo di lancia gli si fosse affondato in una coscia il re fece frugare tutta la città dentro e fuori le case e le locande e finalmente trovarono in quell'albercuccio menichino a letto per una ferita la coscia da prima non erano sicuri fosse lui lo sconosciuto perché non si capiva come un gran cavaliere avesse scelto un alloggio così modesto ma poi videro che la sua ferita era affasciata col fazzoletto ricamato della principessa e non ebbero più dubbi condottolo dal re questi gli chiese di palesare l'esser suo perché se non verano macchie sul suo onore sarebbe diventato principe ed erede del regno macchie io non ne porto disse menichino ma non sono cavaliere di nascita bensì figlio di un mercante di milano dai principi e baroni si levò un raschiar di gola uno stropiccio di piedi che aumentò via via che lui raccontava la sua storia quando ebbe finito parlò il re disse voi siete non cavaliere ma figlio di mercante e ogni vostro bene è frutto di incantesimo e se l'incantesimo si perde che ne sarà di voi e dei vostri averi e la principessa ecco in che rischio lei m'ha messo signor padre col suo editto di giostra e i baroni dovremmo noi accettare per sovrano uno che è nato più in basso di noi e il re zitti tutti cos'è questo brusio non c'è dubbio che questo giovane conforme alla mia parola di re ha diritto la mano di mia figlia e arregna in eredità ma se lui si contentasse visto che nessuno di voi qui l'accoglie bene e ci resta ancora da vedere come la prende il popolo io gli propongo di rinunciare a mia figlia ed accettare uno scambio di premi faccia delle proposte maestà disse menichino perché se trovo convenienza io accetto la mia idea disse il re sarebbe di concedervi una pensione di mille lire all'anno fino a che campate allora accetto disse menichino e fu chiamato subito un notaio per l'obbligazione menichino ripartì tosto per milano a casa trovò il vecchio mercante ammalato che di lì a poco rese l'anima dio restarono i due fratelli con la vecchia madre e il maggiore era sempre più invidioso tanto più che le ricchezze accumulate erano tante che non c'era più bisogno di bacchetta magica per continuare ad essere ricchi così il fratello maggiore divisò di far ammazzare menichino e assoldò due sicari menichino soleva andare in visita a una villa d'amici fuori dalle porte di milano e i sicari si appostarono per via ma menichino portava la bacchetta sempre con sé e appena fuori la battè per terra comandi comando che il cavallo corra quanto il pensiero e i sicari si sentirono passare davanti il cavallo senza manco poter dire d'averlo visto lo fermeremo a ritorno quando è notte ma menichino anche a ritorno correva come il pensiero e i sicari sentirono solo un movimento dell'aria come un fischio il fratello aperse loro il portone del palazzo e li condusse alla camera dove menichino dormiva ma menichino che fiutava l'aria d'insidia aveva comandato alla bacchetta che il suo uscio non si potesse aprire in nessun modo e i sicari si affannarono in vano a scassinarlo tutta la notte finché le prime luci dell'alba li misero in fuga fu allora che menichino commise un fatale errore pensò se continuo a uscire con la bacchetta finisce che mi assaltano a tradimento e me la portano via meglio che la nasconda in camera così fece e uscì a caccia coi suoi amici ma il fratello che stava sempre allerta gli mise sossopra armadi e cassettoni finché trovò quella verga rotta in due pezzi allora è proprio questa pensò se no mio fratello non l'avrebbe raccattata dal giardino dove l'avevo buttata ora non la vedrà più corse in cucina e la scaglione la brace la bacchetta andò subito in cenere e in quello stesso momento palazzo denari cavalli vestimenti ogni cosa acquistata per sua virtù divenne cenere anch'essa a menichino che era in mezzo al bosco si incenerì lo schioppo che aveva in mano il cavallo sotto di sé i cani che correvano dietro la lepre e ogni cosa portò via il vento ed egli capì che tutta la sua ricchezza era perduta per sempre per sua imprudenza e scoppiò a piangere tornare a Milano ormai era inutile pensò meglio avviarsi verso la Spagna dove aveva pur sempre quella pensione di mille lire all'anno assegnatagli dal re e sospirando si mise in viaggio a piedi al traghetto di un fiume incontrò un uomo mercante di buoi come Susa tra viaggiatori si salutarono e presero a raccontarsi i loro casi traversando in barca e poi accompagnandosi per via l'uomo impietositosi della sfortuna di menichino lo invitò a venire con lui portando il bestiame ai mercati secondo le richieste menichino si accordò sul compenso e cominciarono a girare per le fiere già aveva cominciato a raggranellare un uovo gruzzolo quando una volta dormendo in una locanda col compagno venne una banda d'assassini ad assaltarli menichino con l'oste ed il mercante di buoi presero le armi per resistere ma gli assassini erano in tanti e li sopraffecero e li uccisero così e per fine le fortune e le sfortune di menichino non ebbe miglior fortuna suo fratello rimasto povero tentò in vano la mercatura ed il malestro il malestro finì a rubare insieme a dei ladri di mestiere ai ladri si sa gliene vanno bene nove ma alla decima restano in trappola così successa a lui gli sbirri gli fecero la posta e lo presero sul fatto finì in gattabuia incatenato e non ne uscì che col prete accanto per raccomandargli l'anima prima di morire con la testa sotto la scura del boia ti è piaciuto il video? allora metti like sostieni il canale è sufficiente un semplice like vuoi farmi sapere cosa ne pensi? lascia un commento ti risponderò anche questo può aiutare il canale e se ti è piaciuto questo audiolibro iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella grazie grazie